La nostra programmazione è proprio quella che va nella direzione di creare nuovi parcheggi sul territorio ma crearli fuori da quelle che sono le mura cittadine per dare una maggiore viabilità interna a Vietri sul mare perché abbiamo delle vecchie murattiere che sono state riattate e riadattate per diventare strade carrabili. Quindi c'è una difficoltà oggettiva tra la città di Salerno e Vietri c'è una strada che molto spesso ha delle problematiche quindi ci sono degli imbuti in alcuni truatti che crea ulteriore traffico in entrate e in uscita e la stessa vale per la città di Cavadetti e l'aniverso Vietri. Quindi l'idea generale è quella di realizzare dei parcheggi dove sono le scinte murali di Vietri in un certo qual modo quindi fuori dai Vietri e lì realizzare una serie di collegamenti. Uno l'abbiamo già fatto presso la stazione abbiamo realizzato un parcheggio per 280 posti auto c'è un vettore meccanico che porta al centro di Vietri ma da lì cercheremo di scavare per realizzare altri 370 posti auto. Sono partiti in questi giorni i lavori invece per un altro parcheggio dove è l'area delle scuole medie per 380 posti quindi stiamo lavorando in tal senso e stiamo cercando di portare dei risultati importanti a casa. Poi ovviamente le vie del mare quelle vanno incentivate perché la costa di Amalfi come sapete ormai legge la ZTL in costina Amalfitano quindi dovremo progettare quelle che sono e migliorare quelle che sono le strade alternative quella una per tutti quella del trasporto via mare ma anche implementare quelli che sono i mezzi elettrici. C'è un problema legato alla stazione ferroviare ultimamente ci sono stati dei furti di auto ovviamente il comando carabinieri di Vietri e i vicini urbani sono al lavoro per capire e intercettare chi sia stato o negli orari in cui è stato però ho chiesto al presidente della vita di sviluppo di installare nell'immediato una serie di telecamere per avere almeno un minimo di controllo e poi stiamo acquistando delle sbarre elettroniche che daranno una maggiore sicurezza in quell'area. Grazie